credo che se dovessi andare a pesca per fare il pesce più grosso di tutti probabilmente avresti messo già da tempo ma no perché ho fatto pesci grossi ma per il semplice fatto che per come la vedo io non è una gara non è un io sono più bravo di te la pesca qualsiasi tipo di pesca è divertimento è passione è determinazione se vado a pesca è perché ho degli obiettivi in ogni posto in cui vado ho in testa un pesce che vuoi rifare in ogni posto siamo arrivati al terzo capitolo della saga e il viaggio continuo benvenuti in car passion 3 no no Grazie a tutti Dopo aver fatto un pesce la prima notte a Bracciano e non aver più potuto pescare per vari motivi 5 giorni dopo tornato da Bracciano sono andato a Caccamo dove ho raggiunto degli amici che erano lì dalla metà della settimana e con la pescata mi sono veramente divertito ho fatto un sacco di pesci, un sacco di partenze e adesso la stagione della pesca inizia a entrare nel vivo Sì Grazie per la visione! Un pesce veramente molto combattivo e adesso lo ripariamo con lui e non resta perfetta! Grazie! 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 Grazie!